Credi di non avere il coraggio di affrontare la situazione, ma in realtà la forza è dentro di te, impavida e inarrestabile. La forza di uscirne, la forza di denunciarne è lì e aspetta solo che tu la metta in atto. La violenza psicologica non è meno grave di quella fisica e va combattuta allo stesso modo, sempre. È tempo di agire, forza, coraggio. Io l'otto è l'iniziativa promossa dall'assessorato alle varie opportunità del comune di Napoli e finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata con l'intento di sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto anche solo con un consiglio. Fatti ascoltare, chiama il 1522 o scrivici in chat.